Presidente Gragnola, 2023 la Fondazione si prepara con il documento di previsione di bilancio a organizzare soprattutto le erogazioni ma soprattutto impostare anche il sostegno al territorio coinvolgendo tutti gli attori coinvolti. Sì, il bilancio 2023 è stato approvato nell'ultima sua versione così come approvato dal Consiglio di amministrazione all'unanimità e dal Consiglio generale all'unanimità ieri anche dall'Assemblea dei Soci, che ha dato il suo parere favorevole sia al documento 2023 sia al triennale 2023, 2024 e 2025 perché quest'anno cade anche l'obbligo di presentare il bilancio triennale. Invece per quanto riguarda il bilancio triennale a cui faceva riferimento, la Fondazione continua sempre a impostare, a prescindere dagli eventi che potrebbero caratterizzare poi il contesto macroeconomico e microeconomico, le azioni, le erogazioni ma soprattutto anche la visione economica di sostegno. Sì, il nostro statuto prevede diversi ambiti di intervento da parte della Fondazione che continuiamo a sostenere e quest'anno abbiamo predisposto un bilancio di previsione cercando di interpretare le variabili abbastanza pesanti che incidono anche dal nostro punto di vista e sul nostro patrimonio perché abbiamo un patrimonio pressoché interamente impiegato e investito in strumenti finanziari, quindi anche noi risentiamo di quello che succede a livello internazionale. Abbiamo un patrimonio molto diversificato, con la massima diversificazione, con un profilo di rischio abbastanza modesto, però questo non ci esime e non ci mette assolutamente al riparo di quelli che sono gli eventi straordinari che viviamo tutti. Noi abbiamo predisposto un bilancio preventivo 2023 dopo l'ascolto che abbiamo fatto nelle varie commissioni, nei gruppi di lavoro, all'interno del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Generale ma anche attraverso le indicazioni del nostro advisor che è Prometea e abbiamo costruito un bilancio di previsione 2023 che prevede una redditività netta del 2,5% e sulla scorta di questa redditività, fatti i vari accantonamenti obbligatori per legge, abbiamo identificato in 1.325.000 le erogazioni che saranno fatte sul territorio di riferimento della Fondazione nei vari ambiti, quindi spalmati nei vari ambiti di interesse della Fondazione.